Ciao a tutti ragazzi, io sono Matteo Serafini, sono un personal trainer e un biologo nutrizionista. Spero di rendervi più piacevoli queste giornate di quarantena e un po' meno sedentarie con questo allenamento che ho studiato per tutti gli amici di Io Resto a Casa Club. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.